Che cioppo, che cioppo, che cioppo Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione quest'oggi parliamo del 24esimo classico Disney un film del 1981, sto parlando di Rebbe Tobi, nemici e amici questo qui signori è un filmone questo qui è un film meraviglioso che va dritto dritto nella top 10 dei migliori classici Disney tremendamente sottovalutato non capisco per quale motivo questa cosa perché è quasi perfetto cioè oso dire è quasi perfetto e sapete che sono un cagacazzo io quasi perfetto, qualche cazzatina qua e là però una storia semplice con personaggi semplici questa è la dimostrazione che non c'è bisogno di creare cose astruse incredibili semplicemente noi abbiamo due individui appartenenti a due fazioni diverse che però hanno la sfortuna di crescere insieme e di volersi bene fine non bisogna diventare folli per la creazione di un plot basta andare laddove c'è il più umano basta andare non voglio dire nella banalità ma in quello che è il nostro essere l'amicizia, la famiglia valori importanti perché sono intrinseci del nostro essere animale e di fatti questo film ha utilizzato due animali tra parentesi è un film tremendamente rappresentativo un film dove si dimostra che i bambini, i cuccioli non hanno preconcetti ma hanno questo desiderio, fra virgolette di conoscere il prossimo e di convivere con il prossimo sono poi gli adulti che rompono il cazzo comunque adesso andiamo a vedere il film nel dettaglio la partenza è molto simile a quella di Bambi muore la mamma e già di pesantezza incredibile muore la mamma di Red questa volpetta che nasconde il cucciolo vicino ad una staccionata poi scappa tirando lontano da lui i cacciatori si sente il classico colpo di fucile così come i bambi e la mamma non torna più ecco il fatto che come i bambi si sta fuori un gufo questa volta è una gufa, grande ma che vede tutta l'accaduto vede questa volpetta e dice ora come facciamo? cioè non è che dice l'abbandono lì ovviamente però io non mi posso prendere il cuore di te come faccio? e ripensa che c'è una tizia che abita lì vicino che è sola con i suoi animali la sua mucca eccetera eccetera vuoi vedere che forse la adotta e di fatti la adotterà chiama altri due uccelli che sono la parte comica di questo film io l'avrei evitato che non servono a niente insomma chiama questo passo e questo picchio e riescono a condurre la signora da Red la signora appena vede Red dice oh dio poverino oh dio poverino e decide di adottarlo per controparte il vicino di casa che poi proprio il vicino di casa non è un territorio al confine stiamo parlando di un'ambientazione prettamente rurale insomma c'è il vicino di casa di questa donna che è Amos Slade che è un cacciatore incallito e che ha da poco adottato un cagnolino che dovrà far diventare il suo nuovo cane da caccia perché il suo fiuto ormai è anziano e vuole dargli il giusto riposo non il riposo eterno cioè dice dovrò sostituirti però perché purtroppo a caccia non sarai più così prestante insomma che cosa succede la piccola Redda e il piccolo Toby si conoscono si incontrano giocano insieme e finiscono col promettersi eterna amicizia e siccome si sa dove vuole andare a parare il film già ti prende il magone e sono sicuro che anche al bambino prende il magone e di questo ne sono contento non perché ho piacere a vedere i bambini che soffrono ma perché questo li fa crescere accade il fatto la piccola Redda si ritrova inseguita a raffiuto il cane anziano finisce involontariamente col trovarsi nel pollaio insomma una cosa tira l'altra Slade il cacciatore esce fuori di casa vede la volpe che insegue le galline in realtà non le stai seguendo sta scappando raffiuto ma vabbè e quindi imbraccia lo schioppo e parte all'inseguimento il piccolo Redda per scappare riesce a salire sulla macchina della sua padrona che sta andando via con i contenitori del latte strapieni perché immagino deve andare a vendere al mercato ed ecco che qui succede la prima cosa completamente illogica il cacciatore pur di prendere questa volpotta spara alla macchina spara alla macchina e distrugge tutti i boccioli di latte fa un disastro a questo punto il film poteva finire qua la tizia lo denunciava per tentato omicidio e fine invece no no e qui una mega stronzata si limita ad insultarlo gli ruba gli ruba il fucile e gli spara al radiatore che cazzo è vabbè una sorta di giustizia personale non ha avuto senso quella sequenza cioè proprio da un punto di vista giuridico non so che anni fossero ma non è non è proprio plausibile che uno ti spara la macchina e te gli spari la sua dai non ha senso e si scopre pure che Slade sapeva che Red appartenesse alla sua vicina di casa cioè quindi sa che è una volpe domestica e gli spara lo stesso ma ma che ma che cosa sta succedendo in quella radura che 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 gente c'è questo mi riporta indietro ad un episodio accaduto da queste parti dove per sbaglio un vicino di casa schiacciò il gatto del suo vicino con la macchina non lo fece apposta e questo vicino cacciatore non si fece tanto tanti scrupoli imbracciò lo schioppo andò dal gatto del suo vicino a un metro e gli sparò che dire io ora non voglio condannare tutti i cacciatori ci sono sicuramente anche brave persone però alcuni non sanno veramente valutare gli animali come degli esseri viventi alcuni non tutti alcuni cioè non sanno veramente valutare dare un valore alla vita degli animali e forse anche la vita delle persone questo non lo so però arrivare a fare una cosa del genere vuol dire essere veramente non degli esseri umani nel film ci sono alcuni punti in cui c'è Grand Ma che canta fra virgolette canta racconta in rima no cioè io tutta la parentesi degli uccelli l'avrei tolta di mezzo fungono un po' da narratori un po' da parentesi comica ma sono completamente inutili al contesto poteva tranquillamente funzionare il film senza di loro o quantomeno con la presenza di Grand Ma come come consigliera non serviva a tutti quelle specie di blues ma non è neanche un blues che cantano senza rime tra l'altro rime bruttissime io me lo sarei risparmiato volentieri arriva l'inverno ed è ora di svezzare il piccolo Toby quindi il Armos Slade il cacciatore prende con sé il fiuto prende con sé il piccolo Toby e se ne vanno non lo so su quei monti insomma in una zona di caccia dove potranno addestrare i Toby nel frattempo ovviamente Red se ne rimane a casa quindi passa l'inverno con il ritorno della primavera sono entrambi cresciuti e mentre Red pensa spera che non sia cambiato niente invece fiuto in fiuto qualcosa è cambiato in realtà vuole sempre bene a Red però ha preso coscienza della sua condizione di cane da caccia quindi quando Red va a salutarlo quando si incontra non gli dice Red ma io se non ti fai più vedere perché purtroppo io sono un cane da caccia noi non non possiamo essere amici è pesante ed è bello perché un bambino che vede una roba del genere dice ma perché non possono essere amici che cosa te lo impedisce e cominciano a creare delle strutture è molto interessante questo film qualsiasi bambino dovrebbe vederlo Slade becca la volpe di nuovo nella sua proprietà ovviamente cosa fa imbraccia lo schioppo parte all'inseguimento della volpe assieme a Futo e anche a Tobi ovviamente Futo ne perde le tracce mentre invece Tobi riesce a stararlo trova Red nascosto sotto a della legna non mi ricordo cosa però dice Tobi per questa volta te la lascio passare e depista Slade ma nel frattempo Futo riesce a beccare Red ed ecco fatto che c'è questo punto sul ponte passa un treno c'è Red che riesce a salvarsi ma Futo io avrei preferito no Futo no va di sotto e si rompe una zampa all'inizio mi sembrava fosse morto e tra parentesi se era morto io gridavo già il capolavoro totale lo grido anche adesso sia chiaro però la morte così era veramente proprio non lo so un avanzamento di stile incredibile soprattutto dal punto di vista di quella che è sempre stata il modo superare di Disney invece non è morto e c'è però una cosa che mi ha un po' infassidito dopo Tobi arriva vede il cadavere di Futo e giura eterna vendetta a Red cioè te la farò pagare carissima ora perché è evidente che non sia colpa di Red voi lo stavate inseguendo Futo è stato poco cauto passava un treno pur di pigliare una volta e si è fatto beccare da un treno come fai a dare la colpa a Red ci sta che in realtà Tobi la veda con una sua mancanza cioè dice se io avessi indicato a Slade dove si trovava Red ecco che Futo adesso starebbe bene quindi è colpa mia però non mi do la colpa da solo la do anzi a Red in modo ingiusto tra parentesi quasi bigliacco oserei dire e qui si scopre che Amos Slade questo cacciatore comunque ha anche lui una sua moralità un po' particolare ma ce l'ha nel senso Futo di base adesso fondamentalmente non è più utile si è rotto una zampa è anziano eccetera eccetera però lui non è che dice fra virgolette lo butto via non è che dice addirittura lo abbatto non pensa a cose del genere dice Futo è stato un mio cane per tanto tempo è stato un mio compagno per tanto tempo ha aiutato Toby a diventare il cane da caccia che è ora lui ora merita di godersi di far virgolette la sua pensione di starsene tranquillo e di di avere il tempo necessario che gli serve per guarire e questo è interessante perché è un personaggio questo Amos che dimostra una profondità non è più una macchiettina è una cosa un pochino più naturale a questo punto dopo il sacrificio della madre dopo l'amicizia che si scopre dove diventare eterna guerra ecco che lì c'è un altro punto cardine bellissimo di questo film cioè nel giro di 40 minuti è successo l'incredibile e adesso ci troviamo nel punto in cui la padrona di Red si rende conto che Red non è più al sicuro perché Slade le va a rompere le balle in casa gli dice guarda tieni in minascosta quella volpe perché qualsiasi cosa succede io le sparo allora lei compie il gesto estremo dice non ho altra scelta devo abbandonarla ragazzi ragazzi abbandonare per amore è una roba è una roba pesantissima cioè noi abbiamo visto delle cose bellissime nel giro di una quarantina di minuti togliete di mezzo quel cazzo di picco o quel cazzo di passolo che inseguono quel bruco senza nessun motivo logico è orribile quella sequenza però boia abbandona il suo animale domestico per salvargli la vita se ne vedranno altre se ne sono già viste però strutturato così è realizzato veramente bene l'unica cosa cazzo in tutti i momenti in cui potevi abbandonarla proprio gli attimi prima di una mega tempesta eh sì perché abbandona Red all'interno di una riserva di caccia dove tecnicamente dovrebbe essere al sicuro però poco prima di un mega temporale un'alluvione incredibile cioè potevi aspettare almeno un giorno potevi Red è praticamente per la prima volta che si ritrova da solo all'interno di una foresta e non sa troppo bene come muoversi Granma che cosa fa? va in sua ricerca ben consapevole che avrebbe finito con l'aver bisogno di aiuto pensa di averlo trovato ma in realtà trova Vicky che è una volpe femmina e gli dice hai mica visto Red sai è un bel tipo e questa qui subito come in Bambi ingrifatissima dice ah oh dimmi un po' dov'è questo Red insomma di nuovo è la femmina che va alla ricerca del maschio comportamento animale non proprio precisissimo però di base quando si trovano c'è anche Red che comincia a fare il bello io so pescare eccetera eccetera può fare delle mega figure di me si pestano in realtà quella fase lì l'hanno elaborata non troppo bene io avrei preferito visto che hanno tanto lavorato sui sentimenti degli altri personaggi sulla loro caratterizzazione avrei preferito soprattutto la fase dell'innamoramento di Red in cui lui comincia a crearsi una famiglia l'avrei preferito più elaborato invece l'hanno un pochino tirato via l'hanno tirata via perché? perché Slade non è mica un coglione Slade se n'è accorto che la vicina di casa è partita con la volpe ed è tornata senza e ha fatto 2 più 2 ha detto che l'ha lasciata la riserva di caccia quindi non c'è il tempo utile per far vedere i rapporti fra Red e Vicky è necessario che intervenga subito l'antagonista Slade arriva se ne sbatte i coglioni nel filo spinato taglia tutto entra dentro ovviamente soltanto con Tobi perché il fiuto è a casa con la gamba rotta e comincia a studiare un po' la situazione vede le tracce capisce che non è da solo capisce dove si trova la sua tana quindi comincia a proprio a cacciarne nel modo più illegale possibile quindi piazza trappole piazza di tagliole eccetera eccetera e si prepara per dargli il colpo di grazia non appena attraversa quel passaggio pieno di trappole per andare a bere a rapernerarsi ecco fatto che la fortuna vuole che Red non cada nelle trappole e allora parte il seguimento con Tobi c'è il punto in cui cercano di stanarli però non ce la fanno riescono a fuggire Slade sta per sparargli una zampata viene disarmato salta fuori un mega cazzo di orso grizzly e il mosso cazzi tuoi bimbo e si perché lì penso che se la siano goduta un po' tutti non è non è umanamente giusto però dire che cazzo ben ti sta è entrato in una riserva di caccia e vuole ma serve forse una volpe innocente si trova davanti un grizzly che dice adesso la natura ti fa vedere quanto è stronza e infatti lo disarma è lì che sta per fargli le peggio cose il cacciatore cerca di scappare ma si ritrova intrappolato dalle sue stesse tagliole e te sei lì che dici si cazzo si soffri bastardo però ovviamente te ne sa male se l'orso dovesse ucciderlo ovviamente perché sei un essere umano comunque ecco fatto che ingiustamente salta fuori Tobia difesa del padrone si pista un po' con l'orso ovviamente un cane da caccia contro un orso non ha grandi possibilità e quindi c'è l'orso che sta per dare il colpo di grazia a Tobia ecco fatto che Red ritorna Red ricordandosi nella testa le parole amici per sempre eccetera 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 si scaglia contro l'orso l'orso lo insegue arrivano su questo tronco cadono di sotto dove c'è comunque uno stagno un laghetto qualcosa loro sono si sa che fine fa probabilmente è morto invece esanime c'è Red che raggiunge la riva e ovviamente il cacciatore che cosa fa e gli punta il fucile nel muso no ovviamente gli punta il fucile nel muso e c'è Red che dice ecco siamo arrivati alla fine e no invece salta fuori Tobi che si pone a scudo di Red Tobi prende si mette di fronte al suo carissimo amico impedendo così al cacciatore di spararlo il cacciatore allora lì comincia forse a capire o forse lo fa per Tobi non si sa ma non gli spara dice per oggi basta così prende baracchi e burattini e se ne va e Red e Tobi si salutano per consapevoli che sarebbe stata l'ultima volta che si sarebbero visti questo film è bellissimo cioè questo film è bellissimo questo film ha tutto dal punto di vista squisitamente sentimentale c'ha il voler bene gli animali c'ha i legami i legami familiari l'importanza della famiglia l'importanza dell'amicizia il rispetto per la natura c'ha tutto questo film ed è ed è semplicissimo è semplicissimo questo film è meraviglioso il film termina con Slade che ha fatto la pace con la sua vicina di casa non so per quale arcano motivo però si vede che c'è lei che gli sta bendando il piede si vede Red nella riserva che vede in lontananza la patria la dura che cavolo è dove ha vissuto da piccolo e si chiude con lui e Vicky che e tutti che si immaginano immagino vivranno felici e contenti questo film è un riadattamento del romanzo di Mannix The Fox and Hound ci sono numerosissime differenze fra il libro e il film e adesso ve ne elenco qualcuna le più interessanti nel libro non compaiono un sacco di personaggi fra cui il picchio il passero grandmà quelli che tra parentesi ne avrei fatti volentieri a meno e nemmeno Vicky guarda caso la parte è un pochino tirata via quindi mi risorge il dubbio che tutto quello che non funziona di questo film l'abbia aggiunto la Disney l'episodio della lotta con l'orso avviene a inizio libro e non è Toby a salvare il suo padrone ma è fiuto nel libro Amos Slade il cacciatore è alcolista il cacciatore con le sue trappole fa dei danni ad un sacco di altri animali anche i domestici e intrappola persino un bambino nel libro muoiono sia Red che Toby Red perché è stremato Toby viene ucciso dal suo stesso padrone per errore gli spara mentre cerca di prendere la volpe Fiuto nel libro muore Fiuto nel libro muore e funziona da Dio e cioè già capisco di più una minaccia di eterna vendetta da parte di Toby non è giustificata ma già la comprendo e siamo arrivati al momento del miglior personaggio anche in sesto giro sto parlando di due personaggi sì perché forse prima e unica volta che capiterà voglio dare il premio miglior personaggio ai due protagonisti Red e Toby sì perché come fai a parte che gli altri personaggi sono praticamente inesistenti quindi non è che c'è stata grande scelta ma stiamo parlando di due individui che sebbene nel sistema sociale nel quale vivano scelgono di andare contro di combatterlo e di portare avanti quella che è la propria identità il proprio essere il proprio istinto io voglio bere una persona non me ne frega dove arriva li voglio bere e punto e non c'è stata costrizione alcuna sì è vero il cacciatore con Toby un po' l'ha alterato ma alla fine Toby fa una scelta c'è l'evidenza di quali siano le cose veramente importanti che non è appartenere ad una razza non è la cultura da cui derivi è il tuo essere è il tuo rapporto è l'empatia è questo che conta è il volersi bene quindi signori a sto giro i due protagonisti sono i due migliori personaggi signori da che ne c'è poi tutto se siete d'accordo con me o beh mi piace se non siete d'accordo o beh mi piace lo stesso ci vediamo con il prossimo classico Disney